ciao ragazzi volevo dire che purtroppo queste cose accadono oggi è venuto a mancare il nostro una persona che seguiva i nostri cani alla Q Gianni Sorrenzio che combatteva contro il covid purtroppo non ce l'ha fatta però vatto scusate che non sono molto bravo io con le parole in questi momenti qua che dire non ci sono parole ovviamente dispiace molto come tutti gli altri volevo dire solo che l'abbiamo saputo oggi verso l'una abbiamo deciso di annullare gli appuntamenti che avevamo in programma oggi che era doveroso stasera sul canale del tridente bianconero alle 21 e 30 noi della crew abbiamo deciso di ricordare questo nostro diciamo questa persona che ci seguiva tutti anche durante mentre combatteva contro il covid ragazzi non smettere di seguire ci seguiva sempre perché eravamo la sua compagnia eravamo lui avrebbe magari voluto che andassimo avanti oggi ma per rispetto oggi ci fermiamo e questa giornata la dedichiamo a lui ragazzi che ci seguite se ci volete seguire oggi vi do appuntamento alle 21 e 30 stasera sul tridente bianconero un tributo a questa persona che fino all'ultimo giorno ci ha seguito e che noi siamo stati onorati di regalargli comunque un sorriso durante la sua guerra contro il covid che purtroppo non ce l'ha fatta se ognuno di noi dirà qualcosa voi in chat anche per seguire questa breve diretta per scrivere un pensiero su di lui scrivere qualcosa dire due parole ci farete molto piacere scusate se parlo un po così perché come ho detto prima non sono molto bravo in questi momenti qua però ho ammirato veramente la forza di gianni sorrenza che durante la notte con la malattia lui ci ha seguito fino all'ultimo e noi siamo onorati di avergli dato un sorriso fino all'ultimo e noi ci ha fatto piacere di avergli diciamo rallegrato questi ultimi momenti che speravamo che non fossero gli ultimi ma purtroppo oggi è arrivata questa notizia veramente brutta ragazzi scusate un po vi avete trovato in questa veste serie che non siete abituati però era doveroso farlo appuntamento alle 21 e 30 sul canale del tridente saremo tutti noi della crew per ricordare una grande persona che ci ha seguito fino all'ultimo come gianni sorrenzio ovviamente se volete seguirci per lasciare un ricordo ben volentieri in chat ci fa veramente piacere ciao ragazzi